La BFM Global Service SRL cambia, diventa ancora più grande, offre ai propri clienti il massimo servizio, il massimo rispetto, linea cortesia per alberghi, ristoranti, villaggi turistici, monouso, tovagliato monouso, per pizzerie, ristoranti, offrendo al cliente la massima igiene e il massimo rispetto. Noi BFM Global Service serviamo il cliente entro 12 ore dall'ordinazione in tutta la Sicilia orientale.